Parliamo dell'ultimo premium live event in casa WWE, King and Queen of the Ring. Come mi è sembrato? Devo fare una premessa. Io probabilmente a volte sono un po' troppo di bocca buona, nel senso che non riesco ad essere troppo cattivo e severo quando vedo due atleti che cercano di performare su un quadrato mettendo a rischio il loro corpo per intrattenere il pubblico. È come se notassi l'impegno, la voglia di fare, l'energia che ci mettono. Quindi magari qualche esperto mi troverà fin troppo generoso perché ho visto che un evento che è stato accolto un po', non dico male, assolutamente no, ma un po' così così, nella media. Io invece, sarà perché l'ho visto in diretta, alle 19, in tutta tranquillità e comodità, ma me lo sono goduto in una maniera eccezionale. Mi ha proprio divertito. E mi ha anche soddisfatto. Certo, con alti e bassi. Ad esempio, iniziando dall'incontro, valevole per il titolo femminile tra Liv Morgan e Becky Lynch, devo ammettere che non è stato sensazionale, forse in previsione di futuri rematch. L'azione non ha avuto un ritmo continuo. La costruzione del climax a volte è stata un po' deficitaria, però, quelle battute conclusive, col colpo di scena, con l'intervento di Dominic, che ovviamente apre le porte a futuri risvolti narrativi, mi è piaciuto, anche perché non mi aspettavo che innescassero il tutto così presto. L'avevamo detto in facce da CHOP, la rubrica che trovate ogni venerdì alle 14 su questo canale a tema wrestling. Lì la situazione è già abbastanza consolidata. Bisogna capire a livello di tempistiche come lavoreranno aspettando il ritorno di Rhea Ripley, che al momento è infortunata. Quindi non mi aspettavo che agissero in modo così tempestivo. Poi, voglio essere chiaro, non è un brutto incontro assolutamente, è godibile. Becky e Liv sono molto brave, ma il finale oscura un po' tutto quello che c'è stato prima. Passaggio di cintura. Liv Morgan si è commossa nel backstage e in soldoni hanno dato la cintura a Becky per fare il tour europeo e per dare la mano al sottoscritto, cosa che mi rende ancora molto fiero. Io da quel momento non me la sono più lavata. Passiamo al triple threat per il titolo intercontinentale, Sami Zayn contro Bronson Reed e Chad Gable. Questo già più godibile, ma perché a me in generale i match a tre piacciono sempre. Sì, c'è quella forzatura, c'è quella sospensione dell'incredulità, per cui a turno uno dei tre sta un po' fuori dal ring a svernare, però in generale sono incontri che per loro stessa natura non hanno mai un vero e proprio momento di stanca. E anche qui si sono scambiati delle manovre interessanti con delle belle prove di forza, soprattutto da parte di Gable. Anche questo incontro propedeutico a una svolta narrativa con Otis e Gable sul piede di guerra per via dell'errore del primo è un Sami Zayn che ancora una volta si conferma come un campione tutto sommato convincente e che riesce a generare empatia. Il pubblico è sempre dalla sua, lo tifa in modo spassionato, è l'underdog from the underground e piace vederlo vincere, piace vederlo soffrire per poi trovare una catarsi finale. Ovviamente siamo ancora all'inizio di futuri risvolti, io credo che Gable prima o poi la cintura se la prenderà, ma dobbiamo aspettare ancora un po'. Probabilmente l'alleanza con l'Alpha Academy. La finale del Queen of the Ring, Nia Jax contro Lyra Valkyria. Questo a me è piaciuto molto, credo che Nia Jax sia in un momento di forma che davvero qualche anno fa sembrava impossibile. Molto convincente, brava anche Lyra Valkyria, sebbene in un ruolo da, non direi jobber, perché comunque la sua sconfitta ha una certa dignità e per nove minuti sono andate avanti a darsele. Però era un po' la vittima sacrificale per elevare Nia Jax, che si è anche commossa. Ha anche un po' rotto il personaggio. Io l'avevo prevista come vittoria, credo sia anche giusta, perché Nia Jax stava perdendo un po' troppo spesso e con troppa continuità. è passata a SmackDown, andava rilanciata. Io dirò di più, secondo me a SummerSlam potrebbe anche vincere il titolo femminile, sconfiggendo Bayley, che devo dire, da campionessa face, non appare molto carismatica. La stanno gestendo un po' così, così. C'è bisogno di un cambio. Finale del King of the Ring, Gunter contro Randy Orton. Match favoloso, il migliore di Randy Orton da parecchio tempo a questa parte, purtroppo rovinato da un finale sbagliato. Con la spalla di Randy Orton che è rimasta bella alta e lo si vede, lo si nota, però fa niente. Tutto il resto è così bello. Gunter rende qualsiasi manovra credibile. Orton si è speso. Da quando è tornato si vede proprio che si diverte, che cerca di dare il 100%. Cercando anche di proteggersi un pochino e di evitare nuovi infortuni, ma hanno dato il massimo. Tutte le manovre avevano un senso. Tutte le mosse hanno costruito un racconto che ha portato al trionfo di un atleta. Io avevo previsto la vittoria di Orton e invece ha vinto Gunter. Sono contentissimo. È un atleta veramente carismatico, impattante e che ha un futuro luminosissimo davanti a sé. È evidente che vogliono fare sul serio con lui. Non so se riuscirà a vincere il titolo mondiale al primo tentativo, ma io gli darei in mano qualsiasi cosa. E sono qui che non vedo l'ora, non penso avverrà tanto presto, ma non vedo l'ora di un suo futuro torn face perché potrebbe regalarci meraviglie. Siamo solo all'inizio di una carriera che potrebbe essere veramente da all-of-famer tra i più eclatanti. Chiudiamo con Cody Rhodes contro Logan Paul, titolo universale in paglio. Come prevedibile ha vinto Cody Rhodes all'interno di un altro incontro veramente bello e piacevole con Logan Paul che sarà una testa di cazzo per tante cose che fa, ma sul quadrato è una garanzia di impegno e di performance. Perché mi è piaciuto molto? Perché magari mi sto facendo delle pippe, ma io credo che abbiano iniziato un lavoro particolare con il personaggio di Logan Paul. io credo che stiano cercando di renderlo il più più tridimensionale, più sfaccettato e secondo me in previsione c'è un eventuale passaggio a face. Perché il promo di Cody Rhodes contro di lui a SmackDown l'ha lasciato attonito. Il fatto che Michael Cole continuasse a denunciare la sua disonestà, questo tirapugni che è la sua stampella, che è la sua garanzia di successo, ma che forse si sta trasformando in un limite di cui anche lui sta cominciando a rendersi conto. Io credo che arriveremo a un punto in cui Logan Paul starà per utilizzare il tirapugni e invece lo butterà via per far capire a noi tutti ma soprattutto a lui stesso che può essere un campione e un wrestler credibile a 360 gradi senza bisogno di scorciatoie e mezzucci. Magari sono mie pippe ma mi sembra un percorso narrativo accattivante, interessante e con un interprete che se si prestasse al 100% la disciplina potrebbe anche diventare campione mondiale in futuro. Mi piace. Quindi è stato un premium live event molto focalizzato sulla componente narrativa ma anche con delle performance sul quadrato interessanti e molto divertenti. A me è piaciuto tanto. Forse mi è piaciuto anche più di Backlash nel complesso. Quindi promosso. Pollice alto. ma fatemi sapere la vostra. Sono d'accordo con Tola Kuma che dice almeno Triple H non ha ignorato il botch. No, anzi potrebbe diventare un ulteriore elemento da esplorare. Vediamo come lo gestiscono.